Sul nostro sito B2B dirò di tutto ciò che ti serve Attrezzature di prima classe, non fatti sfuggire Dal carrello pieghevole al palo e con la bolla Facciamo un lavoro pesante, con una marcia in più, una grande Tutto logistica Ehi, il nostro nome è famoso Per attrezzature di magazzino davvero preziose Nella tua logistica che siamo il ritmo migliore Vendiamo come pazzi, vai avanti, chiama un amico Siamo nell'era del web, nell'e-commerce siamo i boss Clic che ordina sarà accontentato, ti giuro dai un'occhiata Consegne veloci, prezzi competitivi, tutto su misura Il nostro servizio clienti è come una tienda preziosa pura Carrelli manuali, elettrici o con forche lunghe Hai bisogno di attrezzature, siamo la risorsa giusta Magazzino più efficiente, guadagni di più Tutto logistica Ehi, il tuo pattern per ogni virtù Tutto logistica Ehi, il nostro nome è famoso Per attrezzature di magazzino davvero preziose Nella tua logistica Ehi